Io credo, riprendendo quello che ti ha chiesto la domanda prima di Beppe, io ritengo che le persone non siano paurose, siano più che altro scettiche di tutto questo, forse bisogna combattere più lo scetticismo delle persone. Io ho trovato anche qualcuno che ha paura del discorso. No, ma io penso che sicuramente se dovessi vivere un'esperienza come quella che hai vissuto tu, di un incontro così, sicuramente un po' di angoscia la sentirei già, solo al pensiero di avere una presa diretta della cosa. Paolo, allora da bambini noi abbiamo paura di tante cose che poi non esistono, il lupo cattivo, il babau, l'uomo nero e così via. Quindi, allora, laddove c'è paura c'è ignoranza, c'è non conoscenza. Per cui, ovviamente, se io vedo i film hollywoodiani di Serpentoni, La guerra dei mondi... Certo, la cinematografia mondiale, certo, ha espresso sempre un certo... a parte Spielberg, ma la cinematografia mondiale... A parte, esatto. Perché ha fatto due film, quello, Edetti, che rappresenta un mondo, un extraterrestre particolarissimo, ma è una favola. Anche il recente Arrival è molto bello, per quanto non facilmente comprensibile al pubblico medio. È ovvio quindi che con un tantam mediatico, cinematografico, i visitors, eccetera, eccetera, è ovvio che il cittadino medio sia spaventato dell'ipotetico retiloide o insettoide o altre amenità di questo tipo che ti possa fare chissà quale tortura. Ma queste sono tutte manipolazioni che vengono sempre da quegli ambiti di potere che non vogliono che le persone sappiano. E quindi il mio invito è, chi ha paura, chi è, basta studiare, basta entrare nel vivo della ricerca e poi cercare di capire, per quanto anche abbiamo dei presunti ricercatori che buttano il tutto, anche loro, sull'aspetto orrorifico. Io ho girato per 30 anni, continuo a girare il mondo, partecipando a convegni nazionali e internazionali, e non c'è assolutamente uno straccio vero di prova, a parte certe ipnosi regressive su cui stenderei un vero pietoso, ma a parte questo la vera ricerca dà, anche in ambito militare, dà una versione totalmente differente. Quindi è una presenza assolutamente positiva, bisogna entrarci con tutte le scarpe studiando, poi certo capisco anche che qualcuno non gliene possa fregar di meno, quindi positivi e negativi magari rimangono indifferenti. Io, ribadisco, ero testimone del fenomeno fin da bambino, i primi UFO li ho visti che forse avrò avuto 4-5 anni di età, poi ci sono entrato all'inizio come così dilettante, poi di fatto è diventata un aspetto della mia professione, di ricercatore, di divulgatore, quindi avendo avuto modo di incontrare anche i militari, sia negli Stati Uniti e sia nella ex Unione Sovietica, in Russia e poi acquisendo un enorme mole di informazioni su altri settori che sono collaterali, ma comunque importantissimi, oggi ho la certezza matematica assoluta che non ci sono visite negative, per motivi anche banali se vogliamo, ad esempio noi se fossimo osservati da una civiltà di persone pacifiche di un altro mondo, noi dovremmo essere evitati come la peste, perché nel nostro pianeta si fanno le guerre, ci sono stermini di massa, bombi atomiche, stupri di donne, di bambini, tra i rapimenti per l'espianto di organi, succedono cose spaventose nel nostro mondo, quindi agli occhi di un ipotetico alieno, bonario e pacifico noi siamo assolutamente una società demoniaca, quindi saremmo da evitare assolutamente, però noi che siamo appunto così malvaggi, soprattutto i livelli alti del potere esercitano delle situazioni, vorrei ricordare la Madeleine Albright quando la giornalista le chiede, ma secondo lei mezzo milione di bambini in Akeni morti a causa dell'embalgo e un prezzo che valeva la pena pagare? Questa signora, che sapete tutti, era l'ex segretario di Stato americano, ha detto, ma sì certo che sì, ma mezzo milione di bambini? Ma di che stiamo parlando? Quindi se noi un attimo ci guardassimo meglio dentro casa, forse avremmo più paura di quelli che ci governano, che è di ipotetici o presunti alieni negativi e comunque nel nostro mondo a causa di questa guerra feroce per il potere, di fatto c'è una grande divisione che impedisce uno sviluppo scientifico tecnologico e di fatto noi non viaggiamo nel cosmo, non riusciamo a raggiungere le tecnologie necessarie perché tutte le tecnologie avanzate che noi sviluppiamo invariabilmente vengono condotte o verso la guerra oppure vengono del tutto boicottate, vorrei ricordare, non so se la sapete, la macchina di Pellizza Majorana o le grandi scoperte di Nikola Tesla nel campo dell'energia free energy, dell'energia gratuita che sono state boicottate perché le industrie che vendono petrolio e producono certi tipi di tecnologie non vogliono assolutamente che altre tecnologie innovative più a buon mercato vadano sul mercato, quindi in una situazione così caotica, devastata e divisa non riusciamo a mandare i nostri astronauti da nessuna parte, quindi in tutte le civiltà dove si vive una scienza non etica che sviluppa la parte bellica, il cui sistema produttivo devasta il pianeta, non ci si arriva alle energie e alle tecnologie necessarie per i veri viaggi non da qui alla Luna, ma da qui a un altro sistema solare o addirittura a un altro pianeta, quindi se noi siamo l'esempio classico che è una civiltà negativa, negativissima, assassina e criminale come la nostra, non riesce a viaggiare nel cosmo, non vedo perché da altre parti i presunti alieni cattivi dovrebbero essere tutti amorevoli e abbracciati nel loro mondo e poi andare a squartare le persone e di altri pianeti, è una favoletta che non sta in piedi, è un minimo di ragionamento logico, però il fatto è che siamo talmente pedissequamente abituati a berci come fosse acqua fresca, qualsiasi panzana ci passino in media che non ci rendiamo conto che i nostri neuroni in realtà sono fritti da un pezzo e non riescono più a fare un tipo minimo di analisi critica verso certe informazioni.